avete tanti limiti cerchio esseno attraverso nt noi ben sappiamo che avete tanti limiti che vi impediscono di proiettare tutto il vostro essere migliore nella giusta direzione ma a volte basta un piccolo passo cioè quanto vi si chiede arrampicarsi e non volare pensate a fare piccole cose verso i vostri fratelli verso voi stessi ciò sarà sufficiente arrampicarsi a piccoli passi nessuno pretende che esseri incarnati come voi tutti possano raggiungere la vetta sublime dell'amore incommensurabile dell'amore che è il cristo stesso l'amore che ognuno di voi deve esternare è quell'amore che ciascuno può dare l'unica cosa che vi si chiede di fare ogni sforzo affinché la scintilla d'amore che alberga in voi come in ogni creatura sia sempre più vivida seguite le stanze interiori che sentite non soffocatele tutto ciò che proviene dall'intimo dell'individuo ed è proiettato verso il bene e ciò che è da seguire e ricordate di rivolgere un pensiero all'altissimo per quanto da lui vi viene concesso in questi incontri